Ciao, come va? Sono il professore Ronaldo Silveri e nel video di oggi conosceremo, impareremo come utilizzare correttamente scusa e scusi. Quando usare scusa o quando usare scusi? La regola è molto semplice. Scusa devo usare quando parlo con una persona che conosco, quindi scusa è informale, con un amico, un parente, un membro della famiglia. Allora scusi uso sempre quando devo naturalmente parlare con una persona che non conosco. Quindi scusi è formale, in un negozio, ad un bar, ad un ristorante o per strada. Scusa è per pedir licenza per qualcuno di forma informale o per interrompere qualcuno di forma informale. Scusi è formale, se io voglio pedir una informazione, voglio pedir con licenza per qualcuno, scusi. di nuovo, scusa, scusi. Non esquece di lasciare il suo like, commentare e è chiaro, salvare questo video per non esqueci di assisterelo dopo. Un saluto grandissimo e alla prossima.